FIDIA Buongiorno, sono il piliego di FIDIA. FIDIA è un'azienda italiana che costruisce e commercializza nel mondo controlli numerici e pesatrici ad alta velocità. La nostra specialità è quella di creare delle soluzioni custom per il cliente senza per questo ricondurci a una dimensione di atelier. Dato che FIDIA è ormai, dal 2001, un'azienda con una dimensione internazionale testimoniata anche della quotazione in borsa. Quello che noi offriamo in questo momento e quello che vi sto rappresentando in questo istante è la capacità della nostra azienda di fornire delle soluzioni industriali di processo per l'innovazione dei processi produttivi, soprattutto dei componenti aerospaziali, parliamo di parti calde o parti fredde, così come stampi automotive e general appliance. Se la vostra azienda è interessata o sente l'esigenza di innovare la propria capacità manifatturiera, contattateci pure direttamente tramite il nostro sito di internet www.fidia.com per entrare in contatto con la tecnologia e i servizi FIDIA.